Consumo di sostanze stupefacenti, alcol e ludopatia sono le tre criticità che il sindaco Roberto Gravina definisce vere e proprie emergenze sociali e sulle quali il comune di Campobasso vuole tenere alta la guardia, la strategia da mettere in campo quella della prevenzione. E si prefigge proprio questo obiettivo il recente protocollo d'intesa siglato tra COISP, il sindacato di polizia e l'amministrazione della città capoluogo. L'intesa in questione aprirà le porte delle scuole cittadine ad operatori sociali e di polizia che potranno intraprendere una serie di attività tese appunto alla sensibilizzazione nell'ottica della prevenzione, in questo caso dalle dipendenze da sostanze psicotrope. Insomma il ruolo dei genitori nel percorso educativo dei figli è sempre più complesso e il comune intende dare un contributo. Sì, sono tre fenomeni, lei ha detto benissimo anche l'alcol perché poi diciamo così stride un po' il discorso perché l'alcol è reperibile praticamente in modo libero ovunque e purtroppo sappiamo che viene venduto anche a minori o comunque succede che spesso il maggiorenne dà l'alcol al minore. La droga è anche questa una piaga, si tratta di un momento importante, è il secondo accordo che stringiamo sostanzialmente con degli organismi territoriali, prima il Collegio dei Geometri, oggi con il COISP che ringrazio e chiaramente mira a sensibilizzare perché di questo ne possiamo essere certi. Non è mai tempo perso e soprattutto non basta mai perché sostanzialmente il fenomeno continua a crescere, un po' dipende dalle difficoltà che anche le famiglie incontrano quando entrambi i genitori lavorano e quindi le ore di lavoro sono aumentate, un po' dipende dal dal fatto che i giovani sono meno propensi per esempio a fare sport, quindi davvero quello sarebbe, e so che l'assessore ci sta lavorando quindi stiamo puntando anche a questo, però ribadisco è un'emergenza sociale importante rispetto alla quale non possiamo assolutamente abbassare la guardia.